E' all'Italia il governo del cambiamento, ma io sentivo dire che qualcuno dei vertici pentastellati voleva nazionalizzare l'Italia, sentivo dire questo, ma in questo pregiato articolo che appare sul Corriere della Sera di martedì 24 luglio 2018 non si parla del governo pentastellato, non si parla del governo pentastellato, non è nominato nessuno, non è nominato il premier Giuseppe Conte, non è nominato il ministro e il vice premier Luigi Di Maio, non è nominato Matteo Salvini, non è nominato nessuno, ma perché? Ma che misteri sono questi? Insomma, si vuole o non si vuole nazionalizzare l'Italia, ma perché qua non si parla, non si parla di nessuno del governo del cambiamento, si parla soltanto di queste cose qua, ma nessuno, nessuno, nessuno parla di voler nazionalizzare l'Italia, eppure tanti miei amici dicono che il governo del cambiamento la vuole nazionalizzare l'Italia, ma io non lo so perché, eppure, queste sono le pagine di economia, di economia e quelle della Sera, e qua non se ne parla, che sia chiaro, qua non si fa il nome di nessuno del governo del cambiamento, il governo Salvini di Maio, non se ne parla, non se ne parla, fatemi sapere voi come stanno le cose, cari amici, perché, perché, ci sono notizie che il governo Pettastellato vuole nazionalizzare l'Italia, ma qua non se ne parla, i casi sono due, i casi sono due, da qualche parte si fanno delle fake news, i casi non si scappa, terzo in un dato, fatemi sapere, fatemi sapere, cari amici, fatemi sapere, a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni.